Uè ragazzi, sono tornato dall'ennesimo giro per recuperare un po' di roba e vi faccio vedere subito che cosa ho preso. È una Twirl Target, ideale per chi vuole iniziare, però avendo comunque un marchio solido alla base e non comprando le solite benzole, le solite porcherie insomma. Vediamo, una quattro pezzi, due tom e timpano, poi abbiamo uno sgabello, un bel rullo Gord Master Castle da 5,5, bello questo non vedo l'ora di fare un bel test. Poi un po' di meccaniche, doppio pedale, abbiamo un doppio pedale dall'X-Dram, quelli con la piastra rossa, un po' di aste varie. Un po' di roba che presto vedrete pubblicata, tutto sul gruppo Batteristi Garantiti. E poi passeremo subito ai test audio anche di questa batteria. Ah, ci sono anche dei piatti, un Sabian Ayet da 13 e altra roba. Va bene, vi tengo aggiornato, i belli, ciao! Ciao!